apri di sesamo mi conosci solo da un quarto roberto ciao senti intanto parlami di quei polli poi mi dicono che sono arrivati tanti tanti polli vero quella sera come si dice andiamo ci siamo buttati per faccia tanti dei polli che c'erano li abbiamo buttati via senti dici che c'è una sorpresa per me un bel personaggio lei è? sono Stefania un bel volto, serioso, dicono che è professoressa di? insegno lettere madonna io devo fare attenzione Stefania parliamo un attimo di questo club tennis le rose vabbè c'è molta gente simpatica c'erano dei professionisti quindi persone anche con cui si può parlare oltre che giocare anche abbastanza bene soprattutto questo club consente alle donne di poter giocare in orari io che insegno e chiaramente uscendo da scuola posso tranquillamente venire a giocare perché trovo sempre disponibilità dell'orario organizzano abbastanza bene per cui cercano di conciliare campo e attività in campo in modo che possano poi giocare tutti tra poco con chi gioca? in verità non lo so perché telefono mi organizza e vengo può essere una donna oppure? ah, solitamente è un maschietta a quest'ora senta, più tardi lei gioca io la riprendo ci sono difficoltà? spero di sì perché non si preoccupi mi voglio salutare ciao a tutti tu non devi aver paura in vacanza con noi se tu mi piaci ma sai che c'è che lui mi piace più di te non fingere che io non ci sia se no lui si accorge che sei tu quello che non c'è quando avendociuto sei tre sei vuoi ma quando avendociuto perché vabbè vanno mostro che è il motorino Poca strappia arriva, a valla che mi castrisce, a valla che il figlio è un'astra, a valla che la valla che mi rende in palzino, e lo fà sì ce sei se tu... Cioè, intendo un attimo, ma... Cioè, cosa c'è lo che ti dice? Non mi cazzate, ma... Cioè, tu lo sai, non hai fatto tre anni inizio, ma... ...unico che ha... ...e ce l'ho... ...e ce l'ho... ...vele... ...ma... ...e le quattro... ...che lo sai dove va ora... ...lo sai dove va? ...abbiamo creato il sito o no? Ma... stava lasciando una brutta ripresa, ti dà da un chiuso un ligno perenne la sappiamo come è andata la mattina? no, la c'è un po' lezionata allora accorgiamo un attimino a quel discorso di domenica si, io lo seguiamo poi si è visto? ma a me mi piace si è visto? si, si è visto la scena non si è... ha sentito le parole della ragazza? no allora vado a vedere e seguo tu da tutto l'anno si, la ragazza parlava la ragazza c'è una canzone e dice tu eccetera eccetera segue quelle parole era un ideale comunque era una prassi così per rendere un po' la cosa divertente è certo l'importante è che piace si, si, si lei si chiama? sono bravi ragazzi lei? si, 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 si si, si, si lo sai che va sul sito? lo sai che abbiamo creato un sito? ma l'ho cancellato quello che devo cancellare? quella è la cosa che Totò diceva diciamolo poco quella è proprio quello che ha detto lei va proprio su Youtube su Facebook e sul sito del... come si chiama? come si chiama? come si chiama? le cose non lo dica mai il nome ci sarà qualcuno che lo dirà si è affetto Totò diceva eh Totò diceva ma sei scaborzo qui eh che dice lei? sono proprio bravo l'uno sono bravo